Adesso è giunto l'ora Voi lo sapete Qua Gigi siamo pronti a spacchettare di nuovo Allora il video, già è uscito un video nuovo Forse uscirà questo, non lo so ancora Come potete vedere sono il re dei player pick Ogni volta che usciranno i player pick Cercherò di fare un video a bomba In questo caso il primo è andato Una bomba e abbiamo fatto 30 player pick Bellissimo In questo caso il secondo un po' meno Perché vi ho detto era l'ultimo video ma Ne avevo fatti 36 Nessuno come lui E non è andato bene Cioè è andato malissimo Ho detto in questo caso, è visto che dobbiamo aumentare Sempre il livello, superare Andare sempre avanti, ne ho fatti 40 Questi 40 speriamo di trovare Siamo nel periodo dei toti Cioè è uscita tutta la squadra completa dei toti In più sono uscite 5 icon spettacolari I paccomeri Non so se vedete prima questo o quell'altro Non vi voglio sparare niente Andiamo avanti Andiamo con il primo player pick Chi inizia bene sta a metà dell'opera Ok, il doppio 83 è un 82 Va bene Andiamo bene Per il momento Speriamo di trovare almeno Come 40 player pick Puoi ritrovare almeno Un 5-6 walkout Come base Come base Puoi ritrovare 5-6 walkout Come minimo Come regalo che mi deve fare figo Un regalo che mi deve fare figo Ne puoi ritrovare almeno 5-6 Allora Andiamo mano a mano E poi qualche volta cerchiamo di nominare le statistiche Ok, per il momento ho ancora nulla di che Il più forte è un 82 Ho speso Zero Zero credito Però ho buttato tutto il club Ho buttato tutto il club Sì o no Mi saranno rimasti Penso 100-200 giocatori Ma di tutto Uh, bello Vediamoci un 84 Proprio in generale In tutti i giocatori che ho Rari, non rari Penso 100-200 giocatori Uh Bello e hermoso Leaf Va benissimo Questo è pure buono Va bene Vai l'ultimo della prima pagina Dai 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 No Ok breve Allora L'ultimo della nuova pagina Della prima pagina No Ah vabbè Poteva andare meglio Ok vabbè Allora come Prima pagina Hermoso Me lo prendo E mi accontento molto Andiamo con la seconda pagina Facciamo sempre uno sì uno No Cerchiamo di Vedere dove Quello Che mi piace tanto Dai Andiamo con Caputo Molti fa Già c'erano alcuni giocatori Perché vi ripeto Non metterò quelli 82 A salire in queste sfide Ma metto quelli là più bassi Andiamo con Amata Adatti alcuni Già li ho trovati Alcuni L'ho messi Alcuni no Perché Ne sono troppi Propriamente i giocatori Ok Pietro Schic Va bene Pietro Schic Va benissimo 85 Adesso I workout Forse è hermoso 84 Dove essere workout Vediamo le statistiche Vediamo È un po' di tempo Che non lo facciamo Andiamo a vedere Allora Le statistiche Fatto bene Forse potrebbe essere Un difensore Base Terzino Male È buonino Un difensore Questo potrebbe essere Ok Sangare E chi Sangaria Sangaria Piamma lui Ok Andiamo un po' spediti Un po' veloci Però cerchiamo di Soffermarci Se troviamo qualcuno di buono Ok No vediamo i bagni Mi sta più simpatico Ok Ultimo della seconda pagina Vediamo se ci porta bene Diciamo Diciamo Ok Allora la seconda pagina è fatta Andiamo con la terza Che chiedo sia l'ultimo Perché gli ultimi sono Ah no Gli ultimi Gli abbiamo pure Ok Ok partiamo dall'ultimo Speriamo Dovevo salire di livello E stiamo salendo Dai con mount Va benissimo mount Va benissimo mount Andiamo piano 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 Vai dai 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 Ho visto Che È possibile trovare Anche Le icon Di solito non le ho mai visto trovare qua Però ho visto un video Che hanno trovato le icon Spero che sia possibile Anche per me Uh Mendy Bellissimo Mendy Anche se ormai Non vale più nulla Per spizzi Ma trovo l'acqua Prezzo di 10k Però me lo prendo Mendy Me lo prendo Mendy Va benissimo Ok andiamo con un altro Dai Ah spasso Ok Ok va bene Stiamo salendo Stiamo crescendo di livello Non mi deludere Dai 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 Ok Già ce l'abbiamo Un po' Un toti Un icon Che costo Che ho dato l'anima Per questo gioco If Va bene Va bene if Che dovete aver dato l'anima A sto gioco Penso una carta speciale Me la merito Andiamo con l'ultimo Quarta pagina Chiamiamo di terza Ok Dani Ok Allora Per il momento Abbiamo Un 85 Un 84 Un 83 Un if 83 Un 85 di nuovo E un 84 E poi tutto il resto Quindi partiamo Da capo E cerchiamo di Completare questo giro Che Ne abbiamo aperti Credo Facciamo 2 4 6 6 12 12 2 4 6 18 6 6 6 13 18 20 Ok giusto la metà Abbiamo aperti Se non sbaglio Facendo i calcoli Giusto la metà Proviamo Con quest'altra metà Ci vada meglio Della prima Dai Partiamo subito Con un 80 Closterman Però Closterman È fatto bene Ok Dai Ah non mi deludere Dai che FIFA Ha dato l'anima Per sto gioco Un Momo Salah Allora Momo Salah L'ho trovato Che faccio Io me lo prendo E me lo scambio Anche se Quello là Che c'ho io Non lo posso vedere Però me lo prendo Altrettanto Almeno vediamo Che abbiamo trovato Un altro 90 Ok Vediamo Potorres Ok Stiamo migliorando Stiamo migliorando Possiamo ancora andare Medio Dai Caludo Possiamo ancora Migliorare Possiamo ancora Alzare la sticella Dai Dai che si può ancora Alzare di più La sticella Dai 90 mi è piaciuto Adesso Danne altri Dai Dai siamo casati Dai Sono casato a 1000 Vai Raghi 1888 Buonissimo 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 Raghi Anche che non metterò Da nessuna parte Però l'88 Mi piace Dai Concludiamo la pagina Lule La prima pagina Alla grande Dai Ok Gulax 85 Ok Come prima pagina Penso che abbiamo Dato il massimo Andiamo con la seconda E poi che abbiamo più Ok Qualcun altro Ce l'abbiamo ancora Volendo Qualcun altro Ce l'abbiamo ancora Ok 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 Allora ci dobbiamo Solo rilassare Piano piano Andiamo con la seconda Completiamo anche la seconda Dai La prima è andata Alla stagrande Andiamo con la seconda Ancora meglio Vai Vai Va bene Stiamo andando Vai Vai Ancora meglio può andare Ancora meglio Vai Ancora E vediamoci questo qua Giusto per non Prendere altri doppioni Ok Vai un altro Dai 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 Non mi deludere Dai Anche io Voglio quella Carta blu Voglio Quella carta blu Non me la dai Non me la dai Todi Sembra una carta blu Voglio Dai Dai Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Non ancora Abbiamo quasi completato La seconda pagina E non ha dato ancora Nulla di che Per momento abbiamo trovato Solo 85 In questa pagina Bastoni Va bene Allora come seconda pagina Abbiamo trovato Unif 83 Bastoni De Vrij 84 Forse ho sbagliato E Pietro Scicco 85 Vediamo se Guarda ancora meglio No Ok Allora Seconda pagina Un po' Deludente Rispetto alla prima Però ci può stare Andiamo con Credo l'ultima Credo che sia l'ultima E vediamo Ok Ultimi pick Ok Va bene Non penso di farne altri Mi fermo a 40 Che Penso che sia abbastanza pure Ok Dai 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 No niente Non lo prendo Andiamo a prendi Ultimi 4 Andiamo con l'ultimo qua Vediamo le statistiche Giusto per Facci un po' di Slashpens Ok Maluccio Maluccio Un po' decente Però Chi è Ok 3 carte Bruttissime Ok Andiamo con Aspetta Ok sono finito Allora Questi sono gli ultimi Allora Gli ultimi 3 Andiamo con Terzo Terzo Ok Non posso prendere Di 83 di nuovo Andiamo con Di nuovo questo Allora Tra Mendy E Aguaspas Abbiamo un 83 Un 85 Fai il walk out Fai il walk out Fai il walk out No James Però Rivediamo un bene Ultimo player pick Di questi 40 Che poi dopo Mettiamo in forma Vediamo In lista Vediamo Il più grande Il più piccolo E vediamo Speriamo Le statistiche Dai L'ultimo Lo vediamo così Lo vediamo Portiere Forse è buono Centrocampista Completo Ma molto scarso E altrettanto Questo Chi è Ok E prendiamoci il 78 Giusto per completare La lista Ok Un attimo solo Così Esci nella ordina Gli oggetti più tardi Perché Così le mettiamo In ordina Allora È un pacchetto Tipo da 50 mil No Da quasi 100 mila 100 mila Crediti 125 mila L'altimente tipo E abbiamo trovato Trifo Devo vedere Devo vedere La verità Tanta roba 1 2 3 85 2 84 1 83 Questo è un po' Del dente Questo 83 Come 83 Ottimo Come il resto Delle stante parti Poteva dare qualcosa in più E un botto di 82 Penso Sì 81 può scendere Manomale In più Abbiamo Un 90 1 84 E 2 83 Io direi che Medio di così Non si poteva andare Anzi Poteva andare qualcosa Decentemente Leggermente Leggermente meglio Però Devo vedere Con Un 90 salà E poi abbiamo trovato Aspas Gulaxi E 3 If Tanta roba Poteva darmi Un walk out 1 2 walk out In più Ci stava pure Però Devo vedere Tanta roba Allora Io lo concludiamo Qua con il video Butto tutta la squadra Siccome cerco di aggiornarvele io E ci vediamo Un prossimo video di FIFA Che Vi ripeto Uscirà una breve Multi contenuti Cercherò di farvi riportare Demo anche Fortunet E Ci vediamo Un prossimo video di FIFA Lasciate like Iscrivetevi al canale Lasciate anche un commento Tranquillamente Per sapere cosa avete trovato voi In questo periodo qua Di tutti Giurano 7 giorni Fatemi sapere cosa avete trovato E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti